e noi qui invece in Trentino stiamo lavorando da anni, stiamo lavorando e creando un programma con i cittadini e quindi questo debacle non ci sarà più, noi vinceremo, vinceremo anche in Alcaldi, vinceremo ovunque perché ormai non ci sono altre possibilità. Il cavallo di battaglia è la partecipazione dei cittadini, coinvolgimenti e i punti li conoscete, li conoscerete perché andremo a parlare con i cittadini, andremo a spiegargli nei banchetti, sotto il sole, non ci interessa, lavoreremo come dei pazzi perché o la cambiamo adesso e l'Italia non la cambiamo più. Il carrozzone della politica, parliamo delle partecipate, parliamo dei soliti amici, delle imprese che prendono i soldi, che favoriscono uno dei più grandi clientelismi in Italia, in Alto Adige uno su quattro dipendente pubblico e in Trentino non siamo molto distanti se calcoliamo anche le partecipate. Dobbiamo cambiare il sistema perché la crisi sta arrivando qui. Ha solo avuto democrazia cristiana, non ha mai avuto democrazia reale, i cittadini non hanno mai potuto dire la loro e far approvare le loro proposte, la democrazia è mancata, la partecipazione è mancata. E vogliamo saltare noi cittadini o vogliamo far saltare i politicanti che ci hanno portato fino a qui? Questa è la domanda che io non posso. Comunque sembriamo... Fabio e mingo di stai mancato. Io zinto dietro.